buongiorno a tutti io sono alfred 73 e oggi condivido con voi un intervento di modifica di questa fantastica radio analogica marca retex modello tr 604 questa radio si contraddistingue per l'ottima sensibilità del segnale radio ricevuto e una discreta qualità audio in questo video vedremo come trasformarla in ricaricabile con quattro stilo da 2500 miliampere ora 1,2 volt al nichel metallizzato due gambe di ricezione am ed fm delle pratiche manopole nella parte frontale per l'accensione sul controllo di volume un selettore am fm e un selettore per toni alti o toni bassi anopola laterale per la sintonia nella parte posteriore trova a posto il connettore per l'ingresso corrente alternata e un vano batterie per tre batterie di tipo torcia ma per il mio progetto non utilizzerò questo vano batterie ma inserirò le batterie direttamente all'interno della radio per cominciare vado a rimuovere i tre pomelli frontali del volume del selettore fm am e dei toni alti o bassi una volta svitato il dado che blocca il potenziometro sul contenitore posso andare a svitare le viti nella parte posteriore del contenitore all'interno della radio trovano posto l'altoparlante il trasformatore di alimentazione in basso a sinistra la presa d'ingresso della corrente alternata con il selettore di collegamento delle batterie circuito stampato vero e proprio che contiene il chip della radio e l'amplificatore audio visibile in primo piano in basso la corrente alternata proveniente dal trasformatore attraverso i cavi di colore blu entra sul circuito e viene raddrizzata dai quattro diodi che costituiscono il ponte raddrizzatore e livellata dal grosso condensatore elettrolitico in primo piano ai capi di questo condensatore troviamo la tensione di alimentazione della radio conoscendo questa tensione possiamo calcolare il nostro circuito di ricarica per le batterie ogni volta che si collega l'alimentazione esterna un interruttore presente sulla presa d'ingresso della corrente alternata provvede a staccare le eventuali batterie contenute nel portapile viceversa quando si toglie il cavo della corrente alternata le batterie vengono ricollegate al positivo di alimentazione della radio io utilizzerò questo switch per agganciare o sganciare il mio caricabatterie progettare e realizzare correttamente il mio circuito di ricarica delle batterie nickel metal idrato devo conoscere la tensione raddrizzata di funzionamento di questa radio pertanto vado a smontare questo circuito stampato dalla sua sede per ribaltarlo e misurare la tensione di alimentazione per questa radio ai capi del condensatore elettrolitico di livellamento una volta inserita la spina della corrente alternata vado a misurare con la radio accesa il valore di questa tensione con il voltometro vado a misurare 8,5 volte più che sufficienti per ricaricare 4 stilo al nickel metal idrato queste celle necessitano di una tensione di ricarica di 1,2 volt per ciascun elemento e di una corrente massima pari a un decimo della loro capacità cioè di 250 mAh ma vediamo il circuito di ricarica da me progettato per questo pacco batterie innanzitutto abbiamo la tensione di 8,5 volte che entra all'interno delle batterie attraverso due resistenze in parallelo queste due resistenze poste in serie al pacco batteria permettono di ridurre la tensione a quella necessaria alla ricarica e riducono anche la corrente quando il pacco batteria scarico infatti ha una tensione di 3,6 volt mentre quando è carico ne avremo 4,8 di conseguenza per la legge di ohm ai capi di queste resistenze potremmo avere una tensione variabile da 3,7 a 4,9 volt con una corrente di carica minima per la legge di ohm di circa 74 miliampere ed una massima di 98 miliampere con dei tempi di ricarica di circa 26 ore la caduta di tensione da 3,7 volte circa fornirà la corrente a led attraverso la resistenza da un per segnalare il processo di ricarica in corso superate le 26 ore le batterie inizieranno a riscaldarsi ma senza alcun pericolo e noi sapremo a quel punto che la carica è terminata a quel punto potremo disinserire il cavo della corrente alternata e il micro switch bypasserà il circuito di ricarica la corrente inversa fornirà l'alimentazione alla nostra radio per cominciare procuriamoci quattro pile ricaricabili di tipo a a quindi delle stilo da 2500 milliamper ora sulla pila leggiamo le istruzioni di ricarica massimo 250 miliamper per 16 ore ben al di sopra della nostra corrente di ricarica inserite all'interno dell'apposito porta pile raggiungono una tensione di 4,8 volt che vado a verificare con un voltometro queste pile che sono pressoché cariche hanno attualmente una tensione di 4,97 volt con una basetta mille fori vado ad assemblare il circuito di ricarica mi procuro due resistenze da 100 ohm mezzo watt che poste in parallelo tra loro raggiungono una resistenza di 50 ohm e vado a saldare in parallelo a queste due resistenze vado anche a saldare il led con la sua relativa resistenza di alimentazione posta in serie nonché lo switch presente sulla presa della corrente alternata con del biadesivo lo vado a fissare all'interno della radio in una posizione in cui ci sia dello spazio a sufficienza vado a saldare due fili uno rosso e uno nero in parallelo al mio condensatore elettrolitico per tirare fuori la tensione di alimentazione della radio che mi servirà per ricaricare le batterie una volta fatte queste due saldature non mi rimane che collegare il positivo del mio pacco batteria allo switch posto sul connettore della corrente alternata e quindi al positivo del vano batterie già presente nella radio che a sua volta è collegato al micro switch presente nella presa d'ingresso della corrente alternata in modo da sfruttarlo per bypassare il mio caricabatterie e fornire tensione alla radio quando la spina non è inserita a questo punto decido di effettuare il foro per il led di segnalazione della carica in corso vado a fissare il led con della colla a caldo con l'utilizzo di un morsetto a molla vado ad effettuare tutti i collegamenti tra scheda della radio e il mio circuito di ricarica prima di rimontare il tutto vado ad effettuare un primo con l'auto in un amperometro a pinza dopo averlo azzerato vado a misurare la corrente assorbita dalla radio accesa dal pacco batterie siamo circa sui 50 mili ampere a basso volume questo valore varierà alzando il volume della radio a questo punto collegando il cavo di alimentazione di rete e accendendo la presa di corrente noteremo che questa corrente rilevata dalla pinza diventerà disegno negativo appunto perché la radio sta fornendo energia al nostro pacco batterie ad una corrente di circa 66 mili ampere bene una volta verificato che tutto funziona correttamente non mi rimane che rimontare il tutto e mentre io rimonto il tutto voi che ne direste di mettere un bel like ed iscrivervi al canale per supportarmi grazie infinite per il vostro supporto vado ad inserire il cavo della corrente a 220 e il mio led si accede segno che la radio si sta ricaricando bene amici di youtube la mia radio ora è ricaricata e posso ascoltarla ovunque grazie a questa modifica con delle batterie ricaricabili se anche voi siete interessati a rendere ricaricabili i vostri oggetti non dimenticate di mettere like iscrivervi al canale per tutti i futuri video che pubblicherò grazie infinite e come al solito ci vediamo alla prossima volta